Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Erboristerio Laniffe. Oggi tratteremo di un prodotto che può essere utilizzato per trattare la pelle mista e soprattutto impura. È la saponita allo zolfo. A base di olio di cocco naturale, che dà idratazione ed emollienza, è stato aggiunto anche allo zolfo, con proprietà detossificanti, ma soprattutto regolatrici del sebo. In caso appunto di sebo in eccesso, su tutto il corpo, non solo a livello del viso, dunque, anche sul cuoio capelluto. Si può alternare con una normale saponetta, magari a base di aloe o base di argilla, perché lo zolfo tende comunque ad essere astringente e a seccare molto. Ottimo per le pelli impure, soprattutto durante la pubertà e durante l'adolescenza dei giovani. Si può utilizzare come saponetta per fare una bella pulizia del viso, sia durante la giornata, la mattina, sia alla sera prima di andare a letto. Mi raccomando, seguite il Boristere della Minfea sul canale YouTube, ma anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati.